Intanto ringrazio la CISL, Giuseppe Lavia, segretario regionale, per aver organizzato questo momento importante, per me significativo e che apprezzo molto. Perché quando in una comunità come la vostra, caro Tonino e caro Giuseppe, c'è questo spirito di comunità, di appartenenza e non c'è la freddezza, l'aridità, ma c'è l'uomo. Per me questo è un momento importante, lo dico da cattolico e da amico vero di Cesarino Sapia, amico vero. La mia vita è Cesarino, è stato il mio professore alle medie, è stato colui che mi ha, per la parola volta, accettato nella sezione DC di Longobucco, è stato colui che mi è stato sempre vicino, nei momenti belli e nei momenti brutti della vita personale. E mi è difficile oggi ricordarlo come amico. Perché ricordi veramente sono tanti, sono tanti, a partire dalla bella famiglia. Io mi ricordo Cesarino quando io inizi a lavorare, molti anni fa, e viaggiavo da Longobucco a Cosenza ogni mattina. E spesso, anzi, no spesso, ogni martedì e ogni giovedì viaggiavo con Cesarino, che era nel comitato provinciale dell'Invis. E in quella macchina facevamo tante riflessioni. E averli, a partire dalla famiglia, mi ricordo l'affetto per Luigi, per Isabella, la sua contendenza quando è nato i nipoti, la nipote. Mi ricordo come lui era orgoglioso di questa sua famiglia. Perché anche questo è un segnale importante. Perché spesso la famiglia, per chi fa politica o chi sborge il ruolo sindacale, viene messa sempre da parte. Cesarino non ha mai messo da parte la famiglia. E mi ricordo che ogni Natale, ogni Pasqua, andava a Roma dai propri figli e la prima telefonata che io ricevevo per gli auguri di Natale e di Pasqua era quella di Cesarino. Che bella persona. Che bei ricordi. Perché dimostra l'amicizia, ma dimostra un valore che è presente in questa comunità. Che è l'orgoglio di appartenenza a questa comunità. Ed era orgoglioso. Ogni qual volta io riuscivo a fare un passo in avanti, quando mi hanno eletto il segreto del Buenigio della Margherita, era al mio fianco. E si è messo a piangere. Quando sono stato eletto vicepresidente, nominato vicepresidente della provincia, era al mio fianco. Quando sono stato candidato al Consiglio regionale, era sempre al mio fianco. In silenzio. Perché lui parlava poco. Non era uno che gli piaceva apparire. Era quello, l'amico che trovava sempre al posto giusto nel momento giusto. Nel momento belli e nel momento brutto. E quanta fatica anche sopportarlo. perché era uno che sempre... Oimì, oimì, il forestale. Oimì, oimì, a Asata. Oimì, oimì, a Siel. Oimì, oimì, i centunisti. Oimì, oimì, gli ultimi trocinanti. Era un martello pneumatico. E noi quello dobbiamo recuperare. Perché è una comunità. Cresce, è matura, si evolve e diventa protagonista. Se mette insieme uomini come Cesarino, che lo facevano con passione, con dedizione, con abbinigazione. Perché lui, non ricordo che lo diceva, il Presidente Chiesa non l'ha fatto mai per il mestiere. L'ha fatto come supporto, aiuto a una comunità difficile, quella in cui noi siamo cresciuti, maturati, e oggi svolgiamo l'ordine di responsabilità. Cesarino era questo, Cesarino. Non era altro. Era un uomo buono, come qualcuno ha detto poco fa. Un uomo che aveva nella sua testa sempre il proprio paese. Anche quando andava a Roma e vedeva qualcuno che non era di Longobuccia, e mi ricordo anche quel viaggio con Alberto, 40 anni fa, Giuseppe, 40 anni fa, siamo andati in Pullman, in Pullman, da Longobucco, un Pullman pieno. Mi ricordo Baratta, mi ricordo Cesarino, mi ricordo io ancora il ragazzino. Mi ricordo, ero ragazzo, mi cozzerò via, mi ricordo, poi le cicce, forse c'è. Non mi ricordo, eravamo in tanti per andare a chiedere, 40 anni fa. Allora smettiamola, dopo 40 anni, a meno diamo questo grande onore Cesarino, perché ha ragione Don Pino. Cesarino non è morto, ma continua a vivere. Ma per farlo vivere, per farlo vivere, noi dobbiamo onorare la propria, la sua memoria, che era fatta di battaglia verso questa comunità, e quindi, ad esempio, il problema dell'era interna, è un problema che va ripreso, un problema che va ripreso, e io, lo dico anche al mio collega Graziano, ho sempre tentato di far diventare centrale nel dibattito politico il problema dell'era interna, ma mi sono trovato spesso isolato in Consiglio regionale, e anche nel mio partito, perché è un problema che non riguarda la ricchezza delle comunità, perché dove c'è ricchezza, c'è impegno, e c'è interesse, dove c'è immaginizzazione, come l'era interna, c'è poca attenzione e poco interesse, e lo dico anche ai sindacalisti, questa cosa, perché anche voi, spesso, rinunciate a fare battaglie ideali, come queste dell'era interna, e dello sviluppo dell'era interna, perché troppo prese dai problemi che aveva la Calabria, la Calabria è una terra fragile, debole, fatta di emergenze, quindi capisco, però se non ci scelgono alcuni punti prioritari per lo sviluppo della Calabria, che per me, il primo punto prioritario, caro Tonino, è il dissesto ideologico, perché senza una cura del territorio, una valutazione del territorio, non ci sarà né turismo, né agricoltura, né paesi interni, ed è questo il primo impegno che dobbiamo onorare verso Cesarino, perché per lui era una fissa, una fissa, questa dell'era interna, così come quella della strada, con Giuseppe, è inutile dire adesso la strada che punto siamo, speriamo di completarla da qui a pochi mesi, un impegno formale mi è stato dato dal direttore generale dei lavori pubblici pianuritano, che entro marzo dovrebbero consegnare i lavori, dovrebbero competere i lavori, e dentro fine anno dovrebbe essere fatto il collaudo con l'apertura della strada, almeno questa occasione serve anche per questo. Io mi auguro che la prima iniziativa che faremo, magari insieme a Giuseppe, una volta ce la auguriamo di cuore perché sono stanco pure io, perché ogni volta che vengo al mio paese la strada, la strada, la strada, ci mancherebbe altro. Però, se uno non c'è dentro, ne approfitto e non capisci le difficoltà che ci sono con la burocrazia, gli indoppi, e tante altre cose che mi sono venute a parlare qua. È difficile capire oggi che la burocrazia regionale, nazionale è un altro tema che dovremmo affrontare per accelerare le cose. E poi un appello alla mia comunità. Parlo da Longobuchese in questo momento. Ve lo dico con il cuore in mano. Smettiamolo con questi rancori, questi odi, questi veleni presenti nel nostro comune. Perché anche questo Cesarino combatteva. Non è stato mai uno che ha diviso il paese. Ha sempre cercato di costruire con pazienza, con dedizione, con questo modo di fare, con la battuta, con questo risetto, ma ha sempre cercato di costruire. Smettiamola! Recuperiamo il senso di orgoglio della comunità. E così onoriamo Cesarino, così stimoliamo il territorio e così mettiamo da parte tante divisioni che oggi registrano il paese che non aiutano nessuno. Non aiuta Giuseppe nella sua attività, non aiuta Mimmo nella sua attività, non aiuta Tonino nella sua attività. Ecco, facciamo diventare questo momento veramente un momento di orgoglio, di appartenenza alla comunità e se vogliamo ricordare Cesarino smettiamola con queste divisioni, con questi rancori. ma facciamo invece diventare la nostra comunità come una volta ospitale accogliente che lo è e recuperiamo anche uno dei padri che mi ha cresciuto dal punto di vista spirituale Don Gicciavodino che era un altro che era un altro che con il suo modo di fare ha sempre cercato di tenere insieme il paese. Non parlo del mio figlioccio Don Pino Strafaci siamo cresciuti insieme e quindi non ne parlo conosco la sua sensibilità la sua umiltà la sua cultura la sua disponibilità e questo potrebbe essere anche d'aiuto in questi mesi caro Don Pino anche tu hai un compito se vogliamo una Cesarino il tuo compito è oggi di recuperare quello spirito di comunità e di unità che oggi con Fatica io ancora lo vedo e ma sono fiducioso che ricordando oggi uno come Cesarino questo possa aiutare a recuperare unità unità moltissimo fratellanza unità umanità e rispetto verso ognuno di noi che ricopre i ruoli di responsabilità ciao Cesarino ringraziamo Mimmo le divisioni sono un fardello che nessuna comunità può permettersi diamo la parola all'onorevole Giuseppe Graziano grazie grazie intanto buonasera a tutti grazie a Giuseppe Lavia che è il segretario provinciale della CISL che ha inteso invitarmi a questa giornata ricordo di Cesarino un saluto a Tonino che oggi ha onorato la presenza di Cesarino venendo qua insieme e invitando noi da segretario generale del Calabria della CISL a Ciccio Madeo che ha un compito difficile che è quello dell'eredità di Cesarino insomma che per mezzo secolo è più arretto il sindacato qua a Longobucca insomma ti aspetta io non so quanti anni a Ciccio però se fa pure lui più di mezzo secolo mi sa che andiamo molto oltre insomma e credo posso dire che è un record imbattibile gli anni che Cesarino ha guidato il sindacato e poi un saluto a Don Binostraface lo ringrazio anche per ciò che per la messa per ciò che ha detto anche in ricordo di Cesarino della comunità Longobucca io credo che Mimmo è la prima volta che io e Mimmo Bevacqua ci ritroviamo a Longobucca e sono contento che questo fatto accada proprio nel ricordo nell'anniversario di Cesarino qua come ricordava Mimmo ci siete tutti i familiari i nipoti che rappresentano il prosieguo della generazione di Cesarino dalla signora ai figli alla nuora il fatto a me è piaciuto molto voglio proprio partire da questo passaggio che ha fatto Mimmo sull'essere comunità noi Longobuchessi abbiamo sindaco Gianni non ti saluto per ultimo ma tu sei il capo di questa comunità noi dobbiamo effettivamente io raccolgo e condivido quello che ha detto Mimmo Bevacqua scusate se parto da un'altra questione e poi ritorniamo a Cesarino ma noi abbiamo perso probabilmente anche per lotte politiche intestine il senso della comunità Longobuchessi la comunità accogliente che diceva a Mimmo io stasera sono ben lieto dopo anche di bermi un bicchiere di vino insieme a Mimmo e di stare insieme insieme a tutto il sindacato ma è normale che ciò accada ma siamo tutti dello stesso paese siamo tutti paesani no? e dobbiamo lavorare insieme per questa comunità ai rancori a cui faceva riferimento Mimmo è evidente che le lotte politiche ci debbano essere fanno parte della democrazia guai se non ci fossero è evidente che dobbiamo ieri mi ha combinato uno scherzo in consiglio regionale è evidente che noi dobbiamo ieri Mimmo è stato l'artefice di far mancare il numero regale in consiglio perché è chiaro che in consiglio regionale fermo restante le diverse posizioni di chi governa e di chi è all'opposizione ora governiamo noi all'opposizione Mimmo fino a due anni fa governiamo Mimmo ed era all'opposizione io in consiglio regionale ma questo non vuol dire che le finalità di appartenenza soprattutto l'appartenenza a questa comunità siano comune le radici siano le stesse quindi quando ci sono delle cose da fare che riguardano questa comunità noi dobbiamo farla assieme io credo che non c'è in Calabria un'altra comunità come Longobuc che ha due consiglieri regionali ma è la terza legislatura che Longobuc ha due consiglieri regionali noi è vero che siamo stati su fronti contrapposti e lo saremo su fronti contrapposti per poi in futuro non si sa mai insomma anche perché io credo che è una riorganizzazione anche del centro tu hai parlato prima della DC abbiamo parlato di Cesarino che è stato artefice anche della democrazia cristiana Longobuc è stato vice sindaco io ora milito in un partito che ha lo scudo crociato come simbolo quindi le radici sono comuni sono comuni quindi non è detto in un futuro anche io la vedo questa prospettiva che in Italia si possa ritornare a un grande partito di centro un grande partito moderato liberale che possa fare da guida in questo paese ma intanto partiamo dalla nostra comunità io non leggo alcune cose perché non mi piace leggerle per mia forma mentale però poi ci sono i concittadini che ce li mandano che ti mandano l'articoletto l'hai letto questo io dico non lo apro perché non le leggo queste cose allora voglio finiamola pure di mandare queste cose cercate di stasera magari ci fate una foto a me insieme a Mimmo magari bevamo un bicchiere di vino e domani fate l'articoletto e che cosa avete fatto chi fa questo il veleno lo manda su se stesso non lo manda su di noi perché va a spargere veleno va a spargere cattiveria su se stesso sul longobucco ma non possiamo arrivare a queste cose dobbiamo finirla raga questa storia deve finire e finitela anche voi di trasmettervi reciprocamente le cose contro non ha nessun senso è possibile che io e Mimmo non siamo venuti in campagna elettorale a Longobucco ma voi pensate che perché non ci siamo venuti perché non volevamo partecipare alla campagna elettorale o perché non avevamo interesse per la campagna elettorale è evidente che ce l'avevamo perché ognuno di noi pensava di poter vincere le elezioni di poter favorire o di poter dare una mano a chi gli è più vicino ma perché alcuni veleni e alcuni rancori rancori che ci sono e che ancora continuano ad esserci ti allontanano anche dalla comunità questo accade purtroppo io lo dico anche a malincuore stasera dato che stiamo ricordando Cesarino ma non è a malincuore perché perché Mimmo ha fatto bene a dire che anche proprio in quest'anniversario di Cesarino dobbiamo dire perché Cesarino era l'amico di tutti al di là di quello che è stato per la lotta per il lavoro per questa comunità qua c'era prima Tonino Baratta è qua presente no le lotte che hanno fatto insieme anche su sindacati diversi ma hanno fatto lotte per decenni insieme per il lavoro per l'oncobucchese è stato ricordato chiaramente la forestazione ed altre lotte per la strada la guardia medica l'ultima cosa in cui ci siamo ritrovati insieme è stato proprio quel video per la guardia medica alla sede asle di c'era pure il sindaco c'era pure qualcun altro di voi alla sede asle di Rossano ma io quello che ricordo di più di Cesarino scusatemi questo lo sappiamo tutti quello che è stato per il partito per la comunità a l'oncobucchese io ricordo Cesarino ogni volta che arrivava all'oncobucco io lo trovo sempre al campanaro Cesarino è una delle prime persone che tu trovi al campanaro che ti veniva a salutare non ora che faccio politica ma anche soprattutto prima quando ero il corpo forestale dello Stato io trovo Cesarino e soprattutto trovo una persona accogliente una persona che veniva ad abbracciarti una persona che diceva andiamo a bere un bicchiere di vino veramente era l'amico a cui tu potevi fare riferimento Cesarino era davvero un amico era un amico l'oncobucchese un amico l'oncobucchese noi dobbiamo ritornare ad essere amici l'oncobucchese proprio non partiamo da stasera da questo ricordo di Cesarino Sapi e torniamo ad esserli tutti quanti fermo restanto ripeto le nostre contrapposizioni le nostre diversità anche ideologiche ma cosa c'entra? possiamo anche spotterci posso essere dell'Inter tu puoi essere della Juventus ma poi voglio dire possiamo anche ragionare insieme di calcio e di politica questo dobbiamo farlo noi stasera ve lo stiamo chiedendo sia io che se mi bevo acqua e figuratevi se ve lo chiediamo noi che facciamo politica a livello regionale a maggior ragione dovete chiederlo voi a voi stessi e a tutti quanti noi ritornando ai temi che sono stati trattati da Cesarino Giuseppe Lavia poi aspetteremo la chiusura del segretario generale di Tonino è evidente che la Silla Mare come ha detto Mimmo sta avviando alla conclusione poi ci sarà da finanziare l'ultimo tratto che non è una cosa semplice che dobbiamo dirci la verità Mimmo no trovare risorse in questo periodo è una cosa difficile è chiaro che sarà l'obiettivo prossimo ma intanto questo tratto credo che sia fondamentale terminarlo e poi chiaramente manca il collegamento alla 106 intanto Giuseppe io dico questo anche perché voi come sindacato insieme agli altri due sindacati anche a livello nazionale con Gigi Sbarra avete chiesto con forza il finanziamento della 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 nuova 106 non è un riammodernamento una nuova 106 che è una cosa diversa dal fare le le buche o le rotonde io credo che intanto sulla finanziaria per la prima volta c'è il titolo c'è il titolo della 106 come è stato detto prima da Silbera a Catanzaro e non è una cosa da poco è vero ma anche io sono contento del fatto dei 15 anni al di là di quello che pure il mio presidente ha detto chiaramente però è chiaro che noi dobbiamo anticipare le risorse dobbiamo anticipare le risorse dobbiamo intanto forzare l'ANES per fare i progetti e poi è chiaro che bisogna arrivare alla delibera del Cipe con le risorse cioè bisogna atterrare le risorse si dice mettere a terra le risorse però intanto partiamo da questa finanziaria che finalmente dice che la 106 va fatta finora non era stato detto io ricordo qualche governo che ha definanziato la 106 e questo senza fare politica stasera non voglio nemmeno citare quale governo era e poi il fatto della 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 casa della comunità intanto partiamo dalla buona notizia la 106 c'è la casa della comunità c'è perché è stato appena approvato il piano operativo 2022-2025 dal governo nazionale che il presidente Occiuto nelle vesti di commissario della sanità ha fatto è una buona notizia che ci sia in queste 100 interventi anche alla casa della comunità per l'oncobusco credo che sia una buona notizia poi è vero che c'è la cattiva notizia che mancano i medici ma mancano in tutta Italia è evidente che c'è una politica nazionale che non ha favorito gli accessi non tanto a medicina ma soprattutto tutta la specialistica ora vedremo nei prossimi anni gli accessi sono stati sono aumentati sono stati raddoppiati negli ultimi due anni vedremo da qui a qualche anno se invece i medici li avremo però bisogna puntare sulla medicina del territorio se non si punta sulla medicina del territorio una comunità come l'oncobusco è destinata a morire non a morire perché manca la gente ma a morire nel vero senso della parola perché bisogna favorire l'assistenza domiciliare se non si favorisce l'assistenza domiciliare in paesi come l'oncobusco attraverso la telemedicina ma come si fa se per andare da un medico dovete fare un'ora di macchina per andare a pronto soccorso eccetera quindi prima hai raccontato tu il fatto del covid ciccio ciccio e cesarino che è stato pure colpito da questa malattica poi è stata probabilmente la parte che l'ha colpito alla fine probabilmente molti ammalati covid potevano essere curati nelle proprie case c'è stato un intasamento un'ospedalizzazione del covid che è stata sbagliata è vero che era una malattia che non si conosceva e quindi non si sapeva nemmeno come affrontarla la cosa più semplice era andato in ospedale e si è arrivati in ospedale che poi non si sapeva più a chi dare retta perché è evidente che i medici sono andati in difficoltà invece se noi favoriamo un'assistenza del territorio attraverso la telemedicina attraverso il domicilio noi riusciamo probabilmente Tonino ad evitare che ci sia il sovraffallamento e il sovraccarico negli ospedali quindi la casa della comunità benvenga sicuramente va in questo senso per quanto riguarda il lavoro è evidente che il problema di Longobucco rimane sempre il lavoro è evidente che i nostri giovani che sono fuori a studiare dovrebbero ritornare in questo territorio le cose che ci diciamo da un po' di anni ma dobbiamo cercare di stavolta di favorirle per dabari io credo molto io prima dicevamo come sta andando il presidente Occiuto lui sta allesinando molte energie fisiche e mentali in questa avventura di governo regionale poi non è una terra facile dove i risultati non è facile averli immediatamente dove non so quali saranno i risultati vedremo aspettiamo di vedere i risultati speriamo che siano risultati positivi per tutti i calabresi per quanto riguarda altre buone notizie si è parlato prima della legge 15 c'è stato un incontro proprio nei giorni scorsi con i sindacati e quindi si va verso quello che noi abbiamo sempre chiesto sia io che te che i lavoratori della legge 15 confluissero in Calabria Verde perché questo è il destino che devono avere questi lavoratori c'è stata la stabilizzazione della legge 15 c'è nel senso che sono stati previsti un contributo regionale di oltre 11 mila euro all'anno poi per poterli favorire la stabilizzazione in qualsiasi ente ma io rimango del parere che la stabilizzazione sia quella di Calabria Verde pare che ci sia ora da parte ho letto in questi giorni anche degli assessori regionali questo intento speriamo come abbiamo sempre sperato che ciò possa completarsi i tirocinanti di inclusione sociale stanno per essere immessi nel bacino dei tiste da una notizia positiva perché finalmente rientrano un bacino di precarietà importante ma come Tonino ci dirà il TIS anche loro devono essere avviati verso una stabilizzazione anche se qua il numero è imponente di tirocinanti poi diamo un'altra buona notizia seppur più piccola ieri in consiglio regionale con Mimmo abbiamo approvato l'assestamento del bilancio e fra i 10 comuni che hanno avuto finanziato qualcosa c'è anche Longobuco per una cifra su una richiesta che ha fatto il sindaco di 100.000 euro per la sistemazione mi pare di due campetti avete chiesto quindi vedete che poi qualcosina si muove qualcosina la facciamo muovere io credo che noi possiamo insieme a Mimmo e insieme a tutti quanti stasera dare di più ancora per la nostra comunità voi stateci vicini fate in modo che noi a Longobuco ci veniamo volentieri che non dobbiamo avere timore di raccogliere poi i veleni una volta che andiamo via insomma quindi questo è quello che vi chiediamo io saluto la famiglia di Cesarino e ripeto io ricordo il sorriso io lo ricordo sempre sorridente e sempre affabile questo è quello che mi porto dietro stasera e sono davvero contento di essere qua a ricordarlo insieme a voi saluto tutti quanti ci sarà occasione di rivederci insieme e io e Mimmo dobbiamo venire più spesso sindaco sarà a tua cura invitarci sia a me che a Mimmo bevacqua a Longobuco insieme per parlare di cose concrete per far sì che insieme facciamo delle cose positive e dei fatti per la nostra comunità grazie